Ciao a tutti amici del canale, anche oggi siamo qua io e il martello a presentarvi un nuovo mazzo. Questa volta l'ho tenuto girato, non ve lo faccio vedere, così almeno posso dare il VL trailer e il nostro amico Hammer vi presenterà questo altro mazzo di Yu-Gi-Oh, ovviamente low cost. Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro amico Martello detto anche Hammer e oggi presenterò il mazzo Frog Paleozoic. Come mazzo noi andiamo subito a giocare il 3x di Rana Imbrogliona, il 2x di Dospettoroni, il 3x di Rana Scambio. Poi giochiamo Artista Mago 5 Alcobalini in 2x e le nostre uniche Entrap saranno 3 Ghost Ogre. Poi partiamo subito col reparto trappole e giochiamo L'Anceloila Paleozoica in 2x, L'Ollenoide Paleozoica in 3x, il Marella Paleozoica in 3x, adesso accentriamo tutto che è un po' meglio sulla nostra camera in bestemmia. Poi giochiamo il Dimoshush Paleozoica in 3x, Canadi a Paleozoica in 3x e Piccari a Paleozoica in 3x. Poi giochiamo sempre altre trappole ma non è più reparto a Paleozoica, però è come accompagnamento diciamo giochiamo in 3x la Copidicia Insaziabile, una Forza Riflessa Tempestosa in 2x, una Tepesta Puntente di Polvere in 2x, un Giudizio Solenne purtroppo solo in Monocopia, poi giochiamo un Avertimento Solenne in Monocopia e giochiamo un Colpo Solenne in Monocopia. Questo è il nostro ammazzo e fra poco vi faremo vedere subito il nostro fantastico Extra Deck. Yes man, eccoci qua tornati con il nostro fantastico Extra Deck che è composto da 14 carte, più ovviamente l'Extra Extra Extra Deck che è la nostra quindicesima, il nostro fantastico amico N che è la nostra mascotte che c'è sempre e ci sarà sempre nel video. Poi giochiamo, partiamo direttamente con l'Extra Deck e giocheremo il Mister Stellone in 2x, il nostro anche unica link dell'Extra Deck, poi in 3x il Davvero Rospo Potente, come può mancare in questo mazzo, poi giochiamo in 2x l'Exis Paleozoica in 2x, sia una che quell'altra, poi partiamo con il resto che è uno squalogato, una capa colazzata, eh, forte, poi il Cavaliere del Cielo Centaura in Monocopia, il numero 45 che il regia mi ha detto di non dire tutto il nome in Monocopia e il Cavaliere, i Cavalieri Fantasma del Giavellotto, maledetto, vabbè sì, è un po' più lungo il nome, no, in Monocopia. Questo è l'Extra Deck e spero che vi piaccia sia il mazzo e sia il nostro video. Bene ragazzi. Quindi ovviamente amici, ringraziamo il nostro Hammer per averci presentato anche questo mazzo low cost di Yu-Gi-Oh! Se per caso siete interessati a un acquisto o acquistare il mazzo, aiutarci a svilupparlo secondo le vostre strategie di gioco, potete commentare direttamente questo video oppure il link che trovate nell'intro di coda. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo con il prossimo video. Ciao!